Ragazzuoli, oggi mi voglio concentrare su una persona che attualmente ora come ora riuscirebbe a dare il giro a Balotelli e non è Nainggolan, quindi nel senso, oh, è una cosa abbastanza interessante che non capita proprio tutti i giorni prima di parlarne però come sempre vi invito a scaricare OneFootball se vi va scaricata appunto l'applicazione per rimanere aggiornati sul mondo del calcio, il link per poterlo fare è in descrizione quindi se vi va appunto fateci un salto, detto questo oggi l'attenzione la voglio focalizzare su una persona che sulla carta quantomeno a livello comunicativo dovrebbe essere preparato e non dico che generalmente non lo sia però miglia sta facendo delle uscite che sono parecchi interessanti e sto parlando di quello che è il portavoce della Lazio, se non sbaglio è responsabile della comunicazione della Lazio quindi nel senso, una persona che quando parla, non dico che necessariamente direi delle robe giuste assolutamente però sai, essendo il responsabile della comunicazione dovrebbe essere in grado di esporsi in un certo modo ecco, diciamo così, e questo video assolutamente non è contro nella Lazio, nei Laziali perché lui ha sempre detto che quando parla, parla a nome suo, soprattutto quando non lo fa con addosso il gagliardetto della Lazio quindi diciamo che questo video è diretto a diaconale in sé, non alla Lazio, non ai Laziali poi non sono qui a dire che magari Lotito abbia un pensiero completamente diverso dal suo considerando che la Lazio lunedì tornerà ad allenarsi e la Salernitana fino a domenica si allenava che sono appunto le due squadre di Lotito però rimane il fatto che diaconale nel corso di questi giorni e di questi giorni di quarantena se ne è uscito un paio di volte con delle dichiarazioni che insomma, dai, lasciano parecchi il tempo che trovano in questo periodo direi particolarmente evitabili lui ci teneva a dirle, magari da responsabile della comunicazione le ha reputate giuste come frasi e va bene così la prima volta ha parlato della sindrome da Scudetto del 1915 quando a causa della prima guerra mondiale è stato interrotto appunto il campionato con la Lazio prima e di conseguenza non se ne è fatto più niente anche perché appunto poi la guerra è durata qualche anno non era magari questione di settimane, di mesi dove dici vabbè intanto è così poi vediamo è durata tre anni quindi facevi anche abbastanza fatica poi magari erano colti impreparati non erano pronti anche a decisioni a tema calcistico in caso di interruzioni di questo genere quindi lui si è particolarmente soffermato su questo episodio su questo episodio dove la Lazio è stata diciamo vittima in questa situazione in quanto appunto a causa della prima guerra mondiale poteva vincere lo Scudetto invece tutto interrotto, tutto fermo, tutto finito e poi una volta ripresi lo Scudetto ovviamente non è stato dato alla Lazio evidentemente altrimenti Diaconale non avrebbe detto questo la Lazio magari è stata sfortunata nel 1915 se com'è potevi vincere lo Scudetto arriva la prima guerra mondiale sicuramente poteva andare meglio ecco un pochino per tutti vedendo poi come si è evoluta la situazione proprio a livello storico però insomma penso sia anche una cosa un pochino diversa non penso poi necessariamente che quest'anno la Lazio sia stata vittima di questo problema qui e ci sia la sindrome del 1915 penso sia una situazione un pochino differente dato che come abbiamo visto hanno posticipato gli europei hanno posticipato le finali di Champions League ed Europa League quindi si presume che il campionato continuerà nel senso va bene questa situazione ha spiazzato un pochino tutti quanti in tutto il mondo però attualmente le competizioni calcistiche sembrano destinate a continuare non sappiamo bene quando però insomma adesso parlare di Lazio vittima perché è stato momentaneamente sospeso il campionato a causa di questo problema che stiamo vedendo che è sempre più serio mi sembra un tantino eccessivo ma non è tanto questo il punto perché questa frase qui è inevitabile personalmente parlando assolutamente però magari ancora la situazione non era proprio a questi livelli dato che sono dichiarazioni di qualche giorno fa e tanto tanto ci si potrebbe forse passare anche un pochino sopra ribadisco se sei responsabile della comunicazione già secondo me almeno ribadisco dovresti evitare in partenza però facciamo che vale tutto e va benissimo poi però ci arriva un'altra dichiarazione che voglio dire già la prima un pochino così la seconda dai se mi vai anche a dar ragione a Balotelli te è responsabile della comunicazione con appunto Diaconale che ha fatto un altro intervento sempre su Facebook se non sbaglio quindi parla a nome suo e non a nome della Lazio e ci tenga a ripeterlo dove in sostanza ha detto che ha ragione Balotelli hanno voluto fermare il campionato solamente quando la Lazio si è ritrovata seconda solo che qui c'è un altro tipo di problema il vero punto è che la Lazio non si è mai ritrovata prima a parità di partita che comunque non è una cosa così tanto banale se la vuoi buttare sul piano che è stato sospeso il campionato quando c'era la Lazio seconda la Lazio prima c'è stata solamente durante la prima giornata con altre sette squadre poi dalla seconda alla ventiseiesima la Lazio prima nel corso di una giornata completa non l'è mai stata quindi voglio dire anche qui c'è perché necessariamente bisognava tirare fuori certe parole bisognava proprio no andare a girare il coltello dando ragione a Balotelli poi un altro luminare dei tempi moderni cioè ragazzi dai adesso parliamoci un attimino seriamente va bene tutto quanto nessuno sta mettendo in dubbio il campionato che la Lazio aveva o sta facendo adesso poi lo possiamo girare come vogliamo tutti ammettono in tutta tranquillità che la Lazio sta facendo una cosa spettacolare a livello di prestazioni a livello di partite a livello di risultati assolutamente però poi voglio dire andarla a buttare su questo piano quando poi di fatto la Lazio prima non è mai stata me sembra anche un attimino assurdo un attimino ridicolo avevano deciso di finire la giornata che era stata interrotta la settimana prima per poi sospendere tutto se la Juventus contro l'Inter non avesse vinto la Juventus si sarebbe ritrovata seconda la Lazio si sarebbe ritrovata prima e in un modo o nell'altro avrebbero comunque stoppato interrotto il campionato con la Lazio prima e la Juventus seconda poi o magari non ci arrivo io che è una cosa molto probabile poi di questo periodo figuriamoci però le vedo veramente come dichiarazioni quantomeno evitabili cioè più che altro che non fanno bene a nessuno cioè anche perché nell'atto pratico che cosa dimostri con questo prima dici la sindrome del 1915 quando hanno interrotto un campionato per una guerra mondiale e più che altro rimandi quell'episodio a un fatto dei giorni nostri che sta mettendo bene o male anche questo qui in ginocchio il mondo in più in tutto questo dà anche ragione a Balotelli perché hanno dovuto sospendere il campionato una volta che la Lazio si sarebbe ritrovata seconda quando se la Juventus non avesse vinto contro l'Inter si sarebbe ritrovata lei seconda e la Lazio prima e soprattutto la Lazio prima nel corso di tutto il campionato escludendo la prima di campionato dove ce n'erano otto appaiate a pari punti prima concretamente non è mai stata cosa devo dire speriamo che il campionato rinizi un pochino presto e che la Lazio possa continuare a deliziarci sul campo perché sta facendo delle cose veramente belle stava facendo almeno poi vedremo quando riprenderà il campionato se riprenderà il campionato come sarà effettivamente la situazione detto questo fatemi voi sapere qui sotto la vostra con un commento noi ci vediamo nei prossimi giorni io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza Juve a 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 Grazie a tutti.